Tra pochissimo su Telebelluno una nuova puntata di Benvenuti a Tavola. Peraltro è un programma interessante, pensate che parla di... Capite? Lo studio dell'uomo, in tutte le sue... tra poco. Buona visione da Serramenti Perenzin a Limana, Sanitaria Serenì a Ponte nelle Alpi, 50 e più CAF a Belluno. Benvenuti a Tavola, oggi è l'ultimo giorno della settimana prima del riepilogo. Che si prepara oggi, Joy? Oggi facciamo una ricetta dei muffin che si tramandano di sorelle in sorelle. La Francesca, la Chiara, la Chiara, la Francesca, la Chiara, la Chiara, la Francesca. Loro fanno i muffin sempre con la stessa ricetta e tutte le volte ci aggiungono un ingrediente diverso. E quindi... tra 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 tra. Oggi fragole. Chiusura della settimana dedicata alle vostre email. Ingredienti. Farina autolievitante. 225 grammi. Zucchero. 80 grammi. La scorza di un limone grattugiato. Un limone. Una bustina di vanillina. Una bustina? Un pizzico di sale. Un uovo. Olio di semi. 50 ml. Latte. 225 ml. Fragole. Cubi. Cubi. Bene. Quanto basta. Quanto basta. Allora cominciamo con i liquidi. Mettiamo l'ovetto. L'olio. Un pizzico di sale. Ah, pensavo che buttassi l'olio. Forno preriscaldato a 180. Buttiamo lo zucchero in un'altra bacinella, la farina autolievitante, buttiamo la scorza del limone grattugiata, umido, la bustina di vanillina. Per tutte le persone che non hanno internet, noi cerchiamo di dire le ricette quanto più lentamente possibile, ovviamente abbiamo tre minuti di tempo e quindi cerchiamo di fare il possibile, però voi fatevi magari stampare la ricetta sul sito della Joy, la Joy.it in modo da averle a casa, poi noi penseremo a qualche cosa per noi. Poi amalgamiamo i solidi con i liquidi. Brava, grazie. Adesso aggiungiamo le fragole. Io a queste fragole ho dato una scaldata con un cucchiaio di zucchero e poi riempiamo i pirottini. Senza sporcare in giro. Occhio sempre ai pirottini di non fare dosi troppo elevate perché poi sapete che lievitando i muffin fuoriescono. 15 minuti in forno, stavo per dire in frigo, a 180 pre-riscaldato. Ecco Joy, vieni, 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 vieni. Guarda che cosa ho preparato oggi per te. Oh, che brava, io ho fatto già il tè. Benvenuta a tavola. E noi ci rivediamo domani l'altro l'altro. Ci rivediamo lunedì per le nuove puntate e domani, domenica, per il riepivogo. Voilà. Arrivederci da Serramenti Perenzin a Limana. Sanitaria Serenì a Ponte nelle Alpi. 50 e più CAF a Belluno.